Sarà anche il gioco più bello del mondo, certo che sa essere anche il più crudele. Il calcio regala il meglio e il peggio di sé in meno di dieci minuti. Emulsiona fegati, cuore, gambe, cervelli. Accoglie la folgore nella storia a braccia aperte e la caccia a calci nei denti qualche minuto dopo. Fino al dramma sportivo è una partita a senso unico con Falciano a tenere palla, a muoverla per vie orizzontali, a cercare l'imbucata che potesse portare al gol, a quel gol che divide un rimpianto da un trionfo. Il match è bloccato, Lengordani mette tutti dietro la palla a protezione dello status quo e affida scudo e spada a Touré che là davanti sta da solo a far la guerra un po' con tutti. Le occasioni non sono molte per il volume di gioco prodotto, comunque il possesso è costante e col passare dei minuti, quando Lasagni si gioca anche se meraro, la qualità offensiva sale. Ripresa, il caldo appiccicoso del Morgagni non aiuta verso quel cambio di passo necessario a mettere l'avversario in difficoltà e allora è sempre più chiaro che quello che sarà sarà grazie a un personalismo, a uno spunto, a un calcio piazzato. Con l'ingresso di Bernardi prima e Domeniconi poi tutto l'arsenale offensivo è in campo. Tempo di una mezza protesta per un mezzo rigore su Badalassi che l'atmosfera si incendia. Minuto 72 dormi, accarezza con il sinistro e sbatte sul palo una gran palla per l'1-0. La Folgore prende coraggio, il portiere Coca si imberretta e regala un angolo, che è quello dell'estasi, perché Sacco stacca di giustezza e viene giù la tribuna. Mancano meno di cinque minuti più il recupero e la reazione andorrana non produce nulla di che. Anzi, la Folgore con un seme raro innescato da dormi fallisce il match point e mentre scorrono gli ultimi secondi capita in area la palla della disperazione che Sartori vuol pulire e la mette in porta, la sua. In un attimo la storia cambia colore, sono lacrime per un passaggio del turno mai così vicino, per una notte diventata infernale, per una cosa che non ha un senso e che lascia tutti senza fiato, senza parole, senza qualcosa in mano, tranne l'orgoglio di esserci andati a un secondo a quella cosa che si può sognare anche per una vita intera.